musica fai sempre di testa su per me questa è la destra azzù ma di fiori ma se è morto ma come si sa niente eh come vuoi che vada ma che ha messo? c'è qualcuno? siamo una gente di pompecune perché li ho già messo domani a te ma come? non è mio padre questo oh diamine abbiamo preso quello sbagliato siamo desolati andiamo subito a riprende ci scusi ancora sempre sabato 22 aprile è stata giornata teatrale alla sala ANSPI di Fontevivo tradizionalmente dedicata ad accogliere spettacoli ed eventi del paese con un'esibizione della compagnia teatrale gli instabili di Fontanellato gli interpreti sono stati Samuele Zammarchi Jacopo Parella Testi e Gabriele Tondelli che hanno messo in scena una rappresentazione di circa tre quarti d'ora la cui sceneggiatura era fortemente basata sul film britannico del 2007 Funeral Party in cui la funzione funebre di un amato e rispettato capofamiglia viene disturbata da tutta una serie di situazioni comiche e paradossali oggi è il grande giorno ma come che è il peggiorno? eh sì oggi dirò a tutti la verità tra me e ti che c'è di male ma proprio oggi insomma è il funerale di mio padre non credo che sia proprio il giorno giusto per me ha detto tutto da padre ma che hai capito Alan? io e tuo padre in realtà in realtà in realtà ospite speciale della serata è stato Claudio Cavazzini figura molto attiva nell'ambito recitativo parmense il quale è apparso intorno alla risoluzione del secondo atto una serata dedicata quindi all'insegna del buon umore e del teatro il tutto riportato dalle infaticabili riprese di Roberto Adorni collaboratore della Proloco di Fontevivo e nei fatti archivista ed esperto di storia locale grazie